Radio Radicale, siamo con l'On. Berardini che lascia il Movimento 5 Stelle oggi dopo il dibattito che si è svolto ieri sul MES. Lei ieri era uno tra quei pochi dissidenti, forse è un termine sbagliato visto che è coerente, che ieri ha votato contro la riforma del MES e che aveva firmato quel documento dal quale poi una trentina di parlamentari avevano ritirato la firma. Allora, lei che cosa si sente di dire il giorno dopo e con quale stato d'animo ha preso questa decisione? Beh, diciamo noi siamo stati molto male perché appunto non eravamo quattro gatti ma siamo stati 13 deputati che hanno votato contro e 10 che non hanno partecipato al voto, quindi diciamo in totale 23 deputati che è un numero molto considerevole. Noi abbiamo denunciato il fatto che non ci fosse stato il minimo coinvolgimento su questa tematica fondamentale del nostro programma, ma anzi si volesse far passare tutto diciamo sotto traccia, questo è stato un documento appunto per chiedere un coinvolgimento che in realtà non c'è stato per tanti temi, non solo il MES ma se vogliamo anche il decreto immigrazione che abbiamo votato, questo è un po' un modus operandi, quindi noi di fatto abbiamo denunciato che c'è una mancanza appunto di condivisione e coinvolgimento di tutti i parlamentari e che sono stati traditi i valori fondamentali del Movimento 5 Stelle, soprattutto con questa ultima riforma del MES che passa completamente sopra e straccia il nostro programma elettorale con il quale ci siamo presentati nel 2018. Lei quando ieri durante il dibattito ha sentito la Meloni che diceva fatelo oggi il Waffa nei confronti delle cose che siete costretti a votare, che cosa pensate? Ma di fatto a noi non ci interessa quello che dicono le altre forze politiche anche di opposizione, noi volevamo essere coerenti con il nostro programma perché poi addirittura noi avevamo un programma diciamo di rompente, proprio di smantellamento e di liquidazione di questo strumento europeo e invece purtroppo siamo andati nella strada completamente opposta, e non si dica che l'Italia siccome non prenderà questo MES che è tutto da verificare non avrà conseguenze negative, perché le conseguenze negative ci sono anche se l'Italia non prenderà questo MES e questo va spiegato ai cittadini. Voi adesso che cosa farete? Perché il numero dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che ha lasciato il gruppo o perché è stato espulso o perché se n'è andato comincia a diventare consistente. Allora voi come vi ponete di fronte a questa maggioranza che avete contestato con questo voto di ieri? Noi abbiamo contestato le decisioni prese dal Movimento 5 Stelle, noi abbiamo detto che quello di ieri non era un voto contro il Presidente Conte che noi apprezziamo per tante battaglie che sta portando avanti e tanti risultati che ha ottenuto. Noi però vogliamo anche portare avanti anche i punti, i nostri valori con cui eravamo entrati nel Movimento 5 Stelle e quindi sicuramente lavoreremo anche con i colleghi del gruppo misto per cercare un dialogo con il Presidente Conte e con la maggioranza per portare avanti quelle determinate battaglie. Qualche giorno fa quando qualcun altro lasciò il Movimento 5 Stelle Di Battista disse ma perché lasciate la battaglia continua ma deve essere condotta all'interno del Movimento 5 Stelle? Allora queste considerazioni erano valide secondo lei considerando un po' lo scontro che c'è tra Di Battista e un'altra parte del Movimento 5 Stelle? Io penso che Di Battista stia facendo un po' di strategia tant'è che anche sul discorso del MES lui non si è espresso pubblicamente e questo mi dispiace molto, questo perché chiaramente uscire dal Movimento 5 Stelle è un po' come fare un salto nel buio e forse lui ha paura di fare questo salto ma in una forza politica che di fatto ha abbandonato i territori completamente io vengo dal territorio, sono stato un consigliere comunale e vedo che di fatto noi siamo annientati sui territori noi dovevamo partire dal basso, coinvolgere i cittadini dal basso e arrivare nelle istituzioni invece siamo diventati purtroppo un cerchio magico, anzi i vertici del Movimento 5 Stelle sono diventati un cerchio magico e si sono totalmente distaccati dalla realtà dal mio punto di vista. Le critiche di Renzi come le avete prese, le considerate pretestuose? Allora lui da un fronte diverso dal vostro ha fatto delle critiche a Conte che mi sembra lei non condivida perché in questa intervista mi ha parlato bene di Conte allora ci sono delle ragioni per come il Parlamento viene tagliato fuori da queste decisioni che forse sono anche le decisioni per le quali il vostro gruppo parlamentare non ha discusso della riforma del MES Ma diciamo che la fiducia non è a prescindere, nel senso che sicuramente noi pensiamo che il Parlamento debba essere coinvolto in maniera importante anche sul discorso del Recovery Fund stiamo parlando di fondi che di fatto non sono ancora stati stanziati nel bilancio pluriennale dell'Unione Europea quindi comunque stiamo parlando di un qualcosa che deve ancora venire la struttura anche dal mio punto di vista deve tener conto del Parlamento chiaramente io non credo che i ministeri possano essere di fatto commissariati è necessaria condivisione quindi noi aspettiamo atti formali da parte del Presidente del Consiglio e ci aspettiamo anche un dialogo aperto e collaborativo Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'On. Berardini che oggi ha lasciato il Movimento 5 Stelle, grazie Grazie, grazie a voi